Cominciare male non è che un bluff, è una scusa per chi non ha il coraggio, un modo di dire di quelli perdenti più per mentalità che per demeriti I ragazzi del cinquello qui dietro dicono che cominciare male è una strategia, voi ad ogni modo non credeteci a chi si giustifica dicendo che il problema è stato cominciare male Il cammino è lungo, è ancora l'alba, avete solo mosso male il primo passo, se la forza di fare un cerchio di uomini, guardarli in faccia uno a uno e decidere di raddrizzare la traiettoria Può anche essere che non ti fermi più, buonasera cari amici, a Giovanni Barsotti, cinquello da una parte, uccidiamoli dall'altra, tutti e due hanno iniziato male, il cinquello malissimo In realtà, uccidiamoli tutto sommato benino diciamo, questa sera per rifarsi alla seconda giornata del campionato universitario 2015-2016, si gioca Sheffa batte subito per Briganti, poi con uno scaletto passa in mezzo a tre, Briganti calcia col sinistro Sul fondo, illusione ottica del gol Tutto colpo, arriva un sinistro lo stesso ed è un sinistro formidabile Credo di La Salvia per il gol del vantaggio Erano tutti fermi perché Manfrini si è fatto male, il sinistro è proprio di La Salvia Spalla a spalla, fin in fondo, Sheffa bella giocata, la mette bassa, non arriva Briganti, arriva sul secondo palo La Salvia che carica e calcia con deviazione, in qualche modo Clementi sulla linea Occhia Costa, dentro per Briganti, Briganti all'uno contro uno, la piazza Briganti, grande risposta però di Pietro Ottogalli Sheffa che fa correre Briganti da quella parte, occhia Briganti, uno contro uno alla piazza Ancora Briganti, che tocco però di Sheffa, bravissimo per Briganti Freddissimo sottoporta Altro gol degli uccidiamoli Raga, gli uomini, gli uomini, toma Quello lì Palla sul secondo palo per il tocco al volo Di Cela 3-0 degli uccidiamoli, grande palla di Briganti da calcio d'angolo Arriva Bergamini sul pallone col mancino Vai in mezzo Bergamini Sul secondo palo per il colpo di testa, l'azione pericolosa Anche del cinquello Sul 3-0 degli uccidiamoli Va via da quella parte con una grande giocata È un gran sinistro che batte Becherini, Bergamini Fa un gol bellissimo Ed esulta, questo va nella top 5 L'ultimo gol per ora della serata È molto tardi, siamo nel secondo tempo di Uccidiamoli cinquello Attenzione a Bulega col tacco Una magia di Bulega poi sulla linea, in qualche modo un salvataggio Altro colpo di tacco e poi pallone messo in calcio d'angolo Ha provato Bulega con una giocata che sarebbe stata sensazionale Bulega in area di rigore Per Briganti che la piazza 4-1, ancora Briganti Bulega è uno che ti sfornassi Sempre pazzeschi Briganti è uno che davanti alla porta sbaglia veramente, raramente 4-1 Bulega è uno che ti sfornassi Bulega è uno che ti sfornassi